Buongiorno, bentornati, sempre e ospiti della suggestiva scenografia di Vivere e Raccontare, la rubrica ideata da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati, dedicata agli autori e a tutte le opere del loro ingegno, è per me un piacere e un vero onore avere come protagonista oggi un personaggio assai noto al grande pubblico, attrice, annunciatrice, scrittrice, passata dal teatro al cinema alla tv, è stata sposata con Gianni Morandi, da cui ho avuto due amatissimi figli, Marianne e Marco, che l'hanno resa nonna di ben cinque nipoti, tutti maschi. E qui con noi oggi Laura Efrician, buongiorno. Salve, buongiorno. Grazie Laura per aver accettato il nostro invito, davvero. Grazie a voi. Ci tenevo particolarmente. Allora, mi hai detto di darti del tuo e quindi proseguo con il tuo. Ci diamo del tuo, va bene. Allora, tuo padre, Angelo Efrician, di origine armena, è stato un violinista, un direttore d'orchestra e un apprezzato compositore. È stato anche, scusa posso dirtelo, lo scopritore di Vivaldi. Ah, vedi. È più noto come scopritore di Vivaldi, che di Vivaldi prima della guerra si conoscevano solo quattro stagioni e uno o due concerti. Dopo la guerra papà è andato in questo posto a Torino dove tenevano tutti i manoscritti e ha rispolverato tutto Vivaldi. E tu hai studiato musica, mi hai detto, per qualche anno, tra l'altro. Per due anni. Poi la mia insegnante di pianoforte ha detto a papà, Angelo, non sprecare soldi, questa ragazza non ha nessuna attitudine alla musica. Ci racconti chi era Laura da bambina e come si immaginava da grande? Mi hai detto che la tua famiglia ti ha molto appoggiato, no? Nelle tue scelte. Sì. Io ho avuto un'infanzia, per me, molto felice. Posso ricordarmi che ero molto solitaria già allora. Essere una persona solitaria è una cosa che mi sono portata dietro per tutta la vita. Però ero solitaria perché amavo molto leggere. Ho imparato a leggere molto presto. E poi, siccome sono una insonne da sempre, io di sera andavo giù, facevo le scale, arrivavo in biblioteca e mia mamma, una notte, alzandosi, ha visto che c'era la luce sotto la porta, è venuta a cercarmi e mi ha trovato lì con un libretto di Goldoni in mano e mi diceva, ma cosa fai? Avevo sei o sette anni. E quindi la lettura è stata la mia nurse, la mia... Ascolta, nel 61 conduci Canzonissima e nel 62 presenti il Festival di Sanremo. Numerosissime le tue interpretazioni teatrali, Due Gentili Uomini di Verona, Il Bercante di Venezia, La Tempesta, Piccolo Caffè. Poi arriva la tv con Cittadella, Davide Copperfield, eccetera. E in questa occasione incontri uno degli uomini di cui parli nel tuo libro, di cui intanto manderei la copertina. Il libro si intitola Incontri, con la prefazione di Carmelo Fuccarino, edito per Spazio Cultura Edizioni. Una copertina molto suggestiva, c'è questo tuo primo piano molto molto intenso, dove hai un'espressione interlocutoria, diciamo, nel senso che è sicuramente introspettiva, riflessiva, ma abbozzi anche un sorriso, nel senso che tu sei molto giustamente, molto contenta e molto fiera di chi sei oggi e ti guardi allo specchio, avendo scoperto tutto sommato un'altra te, però andiamo per ordine. Allora, con la tv incontri Giancarlo Giannini. Giancarlo Giannini. Giancarlo, io l'avevo visto... Di cui abbiamo una foto, te con Giancarlo Giannini, se la manda alla regia. Sì, forse siamo in una commedia fatta prima del Copperfield, in fondo era un tentativo di vedere se la coppia funzionava. Bellissimi eravate, bellissimi. Giancarlo, io l'avevo visto in teatro fare una Romeo e Giulietta, dove Romeo, che di solito è, non dico che sia proprio una tinca di personaggio, però è questo ragazzo molto zuccheroso che parla a Giulietta di amore, di fiori, di profumi, di tutto. E Giancarlo ne ha fatto un'acrobata. Io quando l'ho visto arrampicarsi sui muri, buttarsi sul balcone di Giulietta, avere questa forza, questa vitalità incredibile, mi sono detta questo lo amo. Un Romeo sui generis. Io mi sono innamorata di lui, naturalmente, professionalmente, vedendolo in teatro. E siccome sono abbastanza fortunata nella vita, devo riconoscerlo. Quando mi hanno proposto il Davide Copperfield, prima ancora questa commedia che si chiama La Porta Chiusa, e avevo come partner Giancarlo, io sono stata felicissima, perché sono convinta che dai bravi c'è sempre da imparare qualche cosa. E da lui ho imparato molto a essere, avere lui che mi dava la battuta, era un modo per dire la mia meglio. E quindi io l'ho amato sempre, siamo stati due coetanei che hanno legato subito. E lo ricordo sempre con grande affetto. Vedete anche la grandezza dell'umiltà di questa donna che è stata, ed è una grandissima attrice, che dice, no, era Giancarlo Giannini che rendeva me grande. Questo veramente significa tanto del tuo modo di porti e di essere davvero. E poi dalla TV passi al cinema, e arrivano dei film un po' speciali, i cosiddetti musicarelli, in cui il protagonista era proprio Gianni Morandi. Che ricordo hai di quel periodo? E voglio sapere chi dei due ha iniziato a corteggiare l'altro. Dunque, prima di Morandi avevo fatto un'esperienza con Bobby Solo, che era stata non un'esperienza bellissima, perché Roberto Satti, non Bobby Solo, Roberto Satti era un uomo negato a fare l'attore. Ma lo diceva anche lui, per fortuna, se no non lo direi, perché sarebbe una cattiveria. Lui diceva, io non so come si dicono le badone, parlava romanesco, io ancora non lo so parlare. Diceva, allora io non so come si deve dire sta battuta, mi devi dire come se... E quando poi il produttore ha chiesto a me dopo un po' di due, diceva, stiamo facendo... Aguaglio, era un napoletano, un simpaticismo, diceva, noi stiamo a fare mille provini, 300 ragazzi, non ce n'è una che abbia la faccia della fidanzata. Ma che faccia deve avere una fidanzata? E perché vi serve una fidanzata? Ma c'è Gianni Morando e Jung, guarda, è una delizia. Ed eccola qui la fidanzatina d'Italia, l'hanno trovata finalmente poi. Perché loro avevano visto la cittadella soprattutto, dove io ero questo personaggio innamorato di Alberto Lupo. Avevi questo viso veramente latte e miele, senza un filo di trucco, acqua e sapone. Poi ricordiamo che questo viso è perfetto. Ecco, abbiamo una foto tua con Gianni, giovanissimi, invidiatissimi penso anche in quegli anni. Ricordiamo che all'epoca non esisteva la chirurgia plastica, quindi questi erano belli veri, eh? Non i belli di adesso, altro che Belen de Martino. I belli veri, i belli veri. E tutto sommato che ricordo hai di quel periodo? Ma io ricordo per esempio che l'incontro con Gianni proprio ha dato il via a un periodo particolare. Perché prima di Gianni io ero sempre un po' ingessata. La ragazza per bene che fa il suo liceo, che poi fa l'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, che veste con la gonna a pieghe di vigogna e il golfino col filo di perle. E arriva alla mia porta questo ragazzo con un viso che sprizzava vitalità, energia. E io mi sono innamorata dell'energia, di tutto quello che vedevo dietro a lui. L'ho seguito. Lo è ancora molto energico Gianni Morandi, quindi? Infatti. Non mi sbagliavo allora ed è ancora così lui. Mi ha insegnato a mettermi i jeans, a mettermi i giubbotti. Insomma, mi ha insegnato a essere giovane. A essere rock. A essere rock. Ascolta, avete avuto due figli amatissimi, Marco e Marianna. Nel 79 il vostro matrimonio finisce e si inaugura tutto sommato un nuovo capitolo, una nuova stagione della tua vita. Però inizialmente sei stata anche molto criticata, perché come donna sei tu che sei andata via da quella casa e hai aperto una boutique nel centro di Roma. Sei stata molto coraggiosa, molto forte. Sai, io appunto vengo da una famiglia dove le cose si facevano prima e quindi avevo la percezione che intanto forse non amavo neanche il vincolo matrimoniale proprio. Avrei preferito vivere con l'uomo che amavo tutto il periodo, tutta la vita. Ma senza l'obbligo di dover andare in chiesa a dire sì. Perché se l'ho scelto è perché lo voglio. Devo dire però l'impegno della genitorialità l'avete mantenuto molto bene entrambi. Guarda c'è una foto bellissima tua con i tuoi figli. Eccoli là. Veramente meravigliosa. Devo dire anche loro identici ad ora. Sì. Soprattutto Marianna proprio identica. Occhie a surri e capelli chiari, bellissima. Bellissima foto molto tenera. Sì, noi abbiamo, noi quando ci siamo lasciati... Gli avete cresciuti insieme comunque. Sì, abbiamo avuto l'affidamento congiunto. Loro non si sono quasi accorti. Io vivevo in città, loro in campagna. Marco addirittura, vabbè, ma Marco come dice sua moglie, dice è un marito zen. È uno tranquillo, posato. Non si accorge quasi di niente. Suonaca è molto simile a me, diciamo. E lui ha detto, ma io non me ne sono neanche accorto. Perché io andavo lì, venivano di là. È stato un rapporto molto fluido, non ci sono stati traumi. Assiduo, esatto, equilibrato. Molto equilibrato, sì. E questo sicuramente vi è tornato indietro poi in termini... Sì, oggi devo dire che siamo, con i miei figli sono in una grande armonia. Non ho avuto mai un dispiacere da loro. Marco che una volta avrebbe potuto darmelo questo dispiacere perché era stato rimandato in quattro materie, non ha avuto il coraggio di dirmelo, ma ha detto che era stato rimandato in due materie. Poi ha riparato, chiaramente, vabbè. No, ma c'è stato il pensiero di non deludermi e questo è molto importante. Di non dare la sofferenza troppo grande. Allora, negli anni 2000 hai partecipato a Vari Fiction TV, da Don Luca a ricominciare al Morso del Serpente. Nel 2008, nel corso di una serata di beneficenza al San Carluccio di Napoli, hai ricevuto il premio alla carriera del Lente, le donne e il teatro, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Un premio che va alle attrici che meglio si sono distinte nel corso delle stagioni teatrali o che si sono distinte per particolari meriti. E mi hai detto che innanzitutto è stato il primo premio veramente importante, che ti ha emozionato molto. Ma in quell'occasione tu hai incontrato un medico di Medicine Sans Frontier. Sì, io già in Africa c'ero andata e già avevo cominciato a darmi da fare. Ma con lui, che era stato in Africa varie volte, ho cercato di capire, di chiedere che cosa devo fare esattamente quando sono lì per non sprecare tempo, non sprecare... E lui mi ha detto non aspettare che vengano loro a chiederti, perché è anche un fatto di umiltà loro, che non è neanche giusto che provino. Sei tu che devi andare a bussare alla porta. Io nella maniera più stupida ho detto ma non hanno le porte perché sono capanne. E ho capito che dovevo ancora crescere un po'. Che era un'osservazione utronea rispetto diciamo al contesto. Infatti. Però questo è stato un insegnamento che mi ha molto aiutato. Io cerco sempre di propormi, non di lasciare che loro vengano da me a darmi, a chiedermi le cose. Allora io vorrei far vedere questa tua foto con questo bambino africano. Non tanto per la foto in sé, perché poi ce n'erano tantissime. È stato anche difficile fare una cernita delle foto da far vedere al pubblico. Ma per quello che questa foto significa nei termini della tua espressione, come lo stai guardando tu, è come se avessi riscoperto, riscoperto la maternità. Sì, bravissima. Dopo i tuoi figli hai iniziato ad avere tanti figli putagili. Tanti figli putagili. È così, è così. Io quando vedo questi bambini che sono stracciati, logori, però che ti guardano e sono felici, pensano già, hanno dentro la possibilità che questa persona che sono io possa portargli qualcosa di buono. E questo mi fa fare le cose. Qui eravamo alla ricerca di un terreno per un pozzo, perché faccio fare anche dei pozzi. Perché l'acqua è fondamentale e loro non si sa come fanno a vivere senza acqua. Tante volte io mi arrabbio con gli italiani che sono lì, perché molti dei ragazzi neri fanno gli house boys, cioè fanno i lavori di casa, come da noi le cameriere. Le donne fanno i lavori più pesanti invece. Dicono sempre, ma arrivano qui che puzzano. Ma per forza, provate a pensare, con 36 gradi minimo, fare 4 o 5 chilometri a piedi per venire a lavorare. Ma suda questa gente. Non è che puzzano perché non si lavano, non hanno l'acqua. Allora la cosa principale è quella di aiutarli con l'acqua. Vedo queste donne con delle taniche da 25 litri in testa, che fanno chilometri. Ma non solo loro con questa cosa in testa, con un figlio legato davanti e uno magari anche legato dietro. E poi con 25 litri, che è molto meno di quanto uso io per fare una doccia, loro devono lavarsi, lavare i panni, lavare i bambini, far da mangiare. E quanto può durare una tanica di 25 litri? Non c'è il tempo di lavarsi. Bisogna portargli l'acqua. E allora bisogna fare pozzi. E questo è un messaggio che Laura ha sentito così fortemente dentro di sé, tanto da metterlo, inserirlo anche nel libro, infatti, che ha scritto. Allora, devo dire che la scoperta della scrittura non è una scoperta recente. Il tuo primo romanzo è stato come l'Olmo e l'Edera, poi la vita non è età. Ora, incontri, edito da Spazio Cultura, in cui scopriamo tante lauree e in particolare tre A. Armenia, Africa e Amore. Adesso le andiamo a scandagliare una per una, un attimino. Perché effettivamente tu sei una donna che è sempre stata molto avanti con la testa, ma proprio, ecco, dicevamo prima, in una chiacchierata prima dell'inizio della registrazione, il paese, l'Italia, sta andando un pochino indietro, al ritroso. No, guarda al passato. Tu invece sei una donna che ha sempre guardato molto al futuro. Un po' per le tue origini armene, appunto, dove sei stata? E mi hai detto che sei rimasta letteralmente incantata di fronte a questo fuoco sacro, il fuoco eterno. Sì, incantata, commossa e anche provato il sentimento più ignobile che c'è, che è l'odio. L'odio per i turchi di allora che hanno sterminato, nella maniera più atroce, un milione e mezzo di armeni. Ricordiamo che sì, l'odio l'ho dimenticato. E la diaspora armena è stata, diciamo, in termini numerici, la seconda dopo l'Olocausto e la Shoah. Però poi, ecco, mi dicevi, la lezione armena che cosa ti ha portato? La lezione armena intanto mi ha portato a vergognarmi di aver provato odio, perché loro sono portatori di pace. La diaspora armena vuol dire quelli che si sono salvati, che sono andati in giro per il mondo e sono dappertutto. Sono in Italia, in Francia, poi addirittura una colonia enorme. C'era Snavour, che era il capo degli armeni francesi, ma c'è una grande colonia armena anche negli Stati Uniti. Gli armeni si sono sparsi in tutto il mondo e sono anche delle eccellenze in tanti campi. Gli armeni della diaspora hanno voluto dimostrare che pur sterminati, che pur profughi in tutto il mondo, hanno saputo imporsi, qualcuno è diventato anche molto importante, tipo Snavour, tipo mio padre, ma sempre portatori di pace. Bellissima questa cosa. E devo dire che questo è un pochino insito anche atavicamente proprio nella storia dell'Armenia, nel senso che nel Vecchio Testamento la famosa arca di Noè si ritrova poi spiaggiata, diciamo così, sul monte Ararat. E Noè, la leggenda vuole che Noè mandò questa colomba a vedere se erano riemersi le terre dal diluvio universale. E la colomba arrivò con questo rametto di olivo in bocca, che poi è diventato il simbolo della pace, cioè della Sacra Alleanza. E diciamo che questo rametto d'olivo poteva essere stato raccolto solo in Armenia, lì dove l'arca si era fermata. E questo dà agli armeni una grande forza, perché sarà vero, non sarà vero, non lo sappiamo, però si sentono i primi uomini del mondo. Certo, i nuovi uomini. I nuovi, e quindi pur non dimostrando questo orgoglio di razza, ce l'hanno, ce l'hanno dentro. Niente, loro sono granitici nella loro fede, che è il cristianesimo, e hanno scolpito le chiese nella roccia. Questo vuol dire proprio la grande forza interiore che hanno. Meraviglioso. È la seconda A, il secondo incontro, quello con l'Africa? L'Africa è un incontro del tutto casuale, perché pur avendo fin da piccola imparato dai miei che l'accoglienza, l'essere non sola al mondo, ma sempre con gli altri, sempre a disposizione degli uomini che hanno bisogno. Io non avevo mai pensato di andare in Africa a fare la missionaria, assolutamente non ci pensavo. Però durante un viaggio sono capitata casualmente a Malindi e sempre casualmente stavano disegnando delle piccole case che avrebbero costruito in un paese lì vicino a Mambrui e senza pensarci ho detto, va bene, io mi compero quella. Dopo ci ho pensato, ma perché ho fatto questa cosa? Così, ma non è che potrò ogni fine settimana andare in Africa a fare il weekend. Certe volte, certe volte, le cose che facciamo, che ci lasciano stupite, sono già dentro di noi. Le facciamo e poi sappiamo che le avremmo comunque fatte. e da quella casa poi è nata la mia militanza, diciamo così, laica in Africa, in Kenya, soprattutto in Kenya. A Malindi. E vicino a Malindi e lì mi sono data da fare. E non ci sono rimaste solo parole, perché Laura davvero con i fatti, addirittura talmente fortemente sente questa causa che ha iniziato a dipingere per questi bambini. Sì, io ho sempre dipinto, è sempre una cosa che mi è piaciuta. Facciamo vedere uno dei piatti meravigliosi che crei con le tue mani, con il tuo estro, con questi… Vabbè, questo è… c'è un grande prato verde, questo è un omaggio anche a Morandi. Prato verde con Violette. Violette e Margherite. È vero, è vero, è una strofa di una delle sue canzoni. Sì, una di quelle che mi piacciono. E poi, va bene, insomma, ho fatto piatti, ne ho venduti, faccio raccolta fondi presentando il libro, racconto dei fatti dell'Africa e chiedo aiuto. Perché non è che mi vergogna chiedere. Io, se fossi come Onassis, forse sarei già diventata povera lo stesso. Cioè, voglio dire, non c'è limite a quello che si può fare se uno ha dei mezzi. Soprattutto perché non c'è limite al bisogno di queste popolazioni. Però sono stata interrotta da Marianna e anche da altri, insomma, che mi hanno detto, se vai avanti così, fra un paio d'anni noi ti troviamo sotto i ponti di Roma, perché non aveva più neanche la casa. E allora ho capito che dovevo chiedere aiuto agli altri e l'ho chiesto. Sensibilizzare. Sensibilizzare e poi dare e vendere questi piatti. Poi ho dipinto anche scatole, dipinto qualunque cosa. Ecco, nel libro Incontri non si parla solo di Armenia, non si parla solo di Africa, si parla appunto anche dei tanti, tantissimi incontri con uomini della tua carriera, con cui hai lavorato e ne ricordi tanti, ma mi hai detto che ce n'è uno in particolare che ti è rimasto, no? Sì, devo dire che... Facciamo vedere un po' di foto, noi ne abbiamo una con Claudio Villa, una con Lucio Dalla, adesso se ce le mandate, perché chiaramente sono delle foto bellissime, devo dire, perché oltre al fatto che eravate giovani e belli, lo siete ancora a pranzo. C'è anche l'Elusini. Eravate legantissimi. Chi siete? Mauro Usini era l'autore di C'era un ragazzo, quella del Vietnano. Ma non vogliamo ricordare che tu sei la protagonista di In ginocchio da te? Ah, beh sì. No, perché voglio dire, è una canzone bellissima, io pure che faccio parte di un'altra generazione, la conosco a memoria, ogni tanto la canta mia figlia. Ma ho scoperto negli anni che In ginocchio da te è proprio una canzone femminista. Per una volta è un uomo che si inginocchia e chiede scusa. È vero. E quindi non è stata solo una canzonetta, c'è anche un messaggio di... È stata sì, sì, è vero, è vero. Ha fatto da apripista, diciamo, una presa di coscienza femminile. Esatto, sì. È stata importante alla fine. Bella, bellissima. Anche se non era nata per quello. Parlando appunto di Armenia, di Africa, ma anche di rapporti di coppia, rapporti sociali, quando si parla di uomini e donne, è chiaro che una società che non fa dell'uguaglianza, il fondamento, il pilastro portante delle relazioni interpersonali, delle relazioni sociali, è una civiltà destinata a finire. Perché è destinata all'odio, alle guerre, quindi a uccidersi a vicenda, chiaramente. Lo vediamo già adesso, questo. Ricordiamoci sempre che le differenze sono un valore grandissimo da proteggere, le disuguaglianze però sono un enorme disvalore, disvalore. Certo, questo è vero. Ascolta, poi alla fine del libro invece c'è una cosa che mi ha intenerito moltissimo, perché ci sei tu vista dai tuoi figli. Ci sei tu vista da loro. Vista da loro, sì. Che effetto ti ha fatto leggere le loro parole? Mi hai detto che ti sei un po' arrabbiata. No, al momento mi sono sentita un po' così, dico ma come, senza che io sappia niente, adesso c'è anche, non sapevo poi che cosa avrebbero descritto. Quindi è stata una sorpresa? È stata una grande sorpresa, ma poi è stata una grande sorpresa leggere questa lettera, non so in che forma, se l'ha scritta come lettera, no, è un dialogo notturno tra lui e Marianna. Un dialogo notturno? Tra fratelli? Sì, sì, di sera è bello, perché in Africa c'è un cielo di notte meraviglioso, quindi quando sono stati lì due Natali fa, la sera si stava alzati, perché si gode proprio di vedere questo. Stellatissimo, perché l'emisfera australe è una cosa incredibile. E poi perché non ci sono fabbriche, non ci sono automobili, quindi non c'è quella polvere che nasconde, ecco, quindi le abbiamo subito lì. E io di notte effettivamente vado a raccogliere i fiori che poi metto in casa, perché se li raccogli di giorno con quel clima… Le buganville, diciamo, tutta felice con le buganville. Io raccoggo le buganville, sì. Una domanda, ma secondo te perché i figli in generale, ma i tuoi figli in particolare, ti vedono sì come la mamma, granitica, forte, eccetera, ma anche un po' bambina? Perché io ormai ho un'età in cui mia figlia ha 50 anni e credo che abbia bisogno, avendo i figli grandi, di avere anche una figlia femmina, perché ha avuto due figli maschi. Quindi la figlia femmina diventa la mamma. Hanno comunque questo istinto, sì, di protezione. Sì, e Marianna molto. Anche un po' di indulgenza, no? Soprattutto, questa vuole andare a prendere le buganville, tutta felice, contenta così. Sì, 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 è così, è così. Come se tu fossi la piccola e loro, gli adulti della situazione. Questa cosa è molto tenera, molto, molto tenera. Quest'anno Marianna è venuta a casa mia e ha detto, ancora con quel televisore, un vecchio televisore, con, come si chiamava, questa cosa che c'è dietro, no? Un televisore. Il tubo catodico. Sì, il tubo catodico. Mamma, non è possibile, prende, butta via quella, va, compra una televisione, ecco così, mi ha telefonato. Ma lo vedi anche Sky adesso. Non ho ancora fatto fare il filo. No, lei è proprio, veramente, è la mamma. La sento come mamma. Ascolta, ti volevo chiedere, perché poi abbiamo iniziato a parlare di altro, un tuo ricordo di Gian Maria Volontè, che mi ha detto che è uno degli attori che hai frequentato meno, ma che forse ti ha lasciato di più. Beh, perché ha fatto dei film, dopo l'inizio del western, storico per un pugno di dollari, dove hanno tutti cambiato nome perché non dovevano neanche essere riconosciuti, e il western doveva sembrare girato in America, insomma, dopo quel famoso successo planetario, lui comunque ha cominciato con i film sul sociale, ha fatto il film su Mattei, su Moro, e quindi ha dato la sua vita, ha dato la sua vita questa svolta, e sempre con una professionalità, una bravura veramente straordinaria. E io ricordo, ricordo quel questore siciliano che fa nell'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è straordinario. E quindi dal punto di vista proprio della professione, poi è successo che io ero molto amica di suo fratello, e suo fratello, in un incidente, insomma, ammazzò un'altra persona, finì in carcere e lì si impiccò. Quindi questa tragedia ci ha un po' uniti anche da lontano. E l'ultima volta che l'ho visto, lui andava, si era fermato a Portorotondo per fare gas alla sua barca, metterla a vendita, non lo so, e io ero lì che camminavo con Marianna perché era caduta e la dovevo far camminare, aveva preso una botta in testa, aveva messo un fazzoletto in testa, e allora lui gli dice, che fai piccola Cheyenne? E l'ha fatta salire in barca. Perché sembrava un'indianina. Sembrava un'indiana, sì. E ha parlato con lei con grande dolcezza, gli raccontava tutto delle barche, questa lo guardava, aveva anche lui quella voce terapeutica. Tante volte lo dicono anche di me, che ho la voce terapeutica. È vero, è una voce molto calda, molto pastosa. Devo dire che con Laura ci siamo sentite telefonicamente a tutte le ore, e ogni volta però mi dava serenità. Infatti, così è rimasto Gian Maria, quell'ultima volta che l'ho visto, è andato io con la barca e poi dopo ho saputo che è come un rimpianto che non abbia più potuto continuare a recitare. E' morto facendo un film. Ricordo, ricordo. Ci è rimasto pochissimo tempo a disposizione. Peccato perché sarai le ore a parlare con te, sono sicura anche il pubblico da casa. Però hanno la possibilità di continuare a parlare con te attraverso questo libro, Incontri. Io voglio rimandare la copertina assolutamente in sovrimpressione. E' un libro che va letto e va anche sfogliato perché è pieno di foto veramente meravigliose, come se fosse veramente un tuo album dei ricordi e degli incontri, appunto. E' proprio il caso di dire. Hai parlato di rimorsi, del piccolo rimorso nei confronti di Gian Maria Volontè. Rimorsi e rimpianti tu ne hai nella sua vita? No, né rimorsi né rimpianti. E non devi averne perché effettivamente hai raggiunto tantissimi traguardi a tutti i livelli, Laura. Che ti ho detto io prima di iniziare a registrare? Ti sei conquistata veramente un posto nell'eternità. Innanzitutto nel cuore di tutti noi e di tanti bambini anche del terzo e quarto mondo. Grazie. Quindi, ascolta, ultimissima domanda d'obbligo. Tu non invecchi mai, resti sempre uguale. Permettimi di dirte, non lo dico per piageria, ma è veramente così. Sogni, progetti e ambizioni? Perché non è finita qui. Ma sai, i progetti sono sempre quelli che mi legano all'Africa. Mi legano all'Africa, ma parallelamente anche la scrittura e anche la pittura, perché anche quando vendo un libro, una piccola parte viene a me, ma tutto quello che io raccolgo viene per i bambini dell'Africa. Quindi scrivo, dipingo, mi piacerebbe ritornare a recitare. Ecco, questo è una cosa che adesso nel film di Veltroni... Avete sentito, registi? In questo film di Veltroni faccio una mamma che ha l'Alzheimer. Ecco, anche in un altro film precedente ho fatto la mamma che fa l'Alzheimer. Non vorrei che questa cosa passasse come una specialità. Esatto, un cliché. Un cliché. Uno stereotipo. Io posso fare anche una bisnonna, bianca di capelli, rugosa, ma fatemi fare una parte che non sia malata di Alzheimer. Va bene, ascoltate l'appello di Laura Efri, che è abile, arruolabile, bellissima tra l'altro, e piena di quell'energia che chissà se l'ha ereditata da Gianni Morandi, se l'ha presa dalle origini armene o se l'ha riscoperta e ritrovata con il sole e la gente dell'Africa. Chissà. Grazie a Laura Efri che è stata nostra ospite oggi, davvero. È stato un mio immenso piacere. Grazie a tutti voi di averci seguito. Vi do appuntamento come sempre, lo sapete, se volete qui a vivere e raccontare su Aracne TV. Grazie a tutti.